Una lunga camera di consiglio per arrivare al probabile rinvio a giudizio all'apertura del processo in corte d'assise per Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio dell'amico Pierpaolo Panzieri, ucciso a colpi di coltellate poco più di un anno fa a Pesaro. In regione, seduta aperta del consiglio dedicata all'infettivologo di Castelplanio, scomparso nel 2003, l'intervento di Matteo Bassetti e la testimonianza del figlio Luca, il ricordo di medici, scienziati e volontari. Bonus gite scolastiche, 150 euro di sconto sui viaggi di istruzione, via alle domande domani 27 marzo con il click day, ma si rischia il caos. È tornato il freddo con pioggia e vento, ma c'è pure chi fa i conti con le allergie di primavera. I consigli per vivere una primavera serena. Buonasera, ben trovati a questo nostro secondo appuntamento con All News, l'informazione regionale di TVRS. Avete sentito i titoli e i temi principali di cui ci occuperemo? Tanto altro nel nostro telegiornale che apriamo con la notizia però che avete sentito. In apertura la cronaca giudiziaria, si va rinvio a giudizio per Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio dell'amico Pierpaolo Panzieri ucciso a Pesaro nella sua abitazione un anno fa. È stata una giornata lunga e faticosa. Il processo si aprirà il prossimo 3 luglio. Ce la racconta Camilla Cataldo. Una lunga camera di consiglio per arrivare al probabile rinvio a giudizio e all'apertura del processo in corte d'assise per Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio dell'amico Pierpaolo Panzieri, ucciso a colpi di coltellate poco più di un anno fa in via Gavelli, in pieno centro a Pesaro, pare dall'ultima versione fornita da Alessandrini, per un approccio sessuale rifiutato. Nel pomeriggio al Tribunale di Pesaro si attendeva la decisione del GUP Giacomo Gasparini, dopo il rinvio a giudizio chiesto dal PM Cecchi. Alessandrini, 31 anni, che non era in aula, è accusato di omicidio volontario pluregravato. Premeditazione, futili motivi e crudeltà le aggravanti contestate. I legali della difesa, gli avvocati Taormina e Asole, puntano a far cadere la premeditazione, data la parziale infermità mentale dell'assistito. Pacifico è l'orientamento, quello di andare a giudizio e con, presumibilmente, questo capo di imputazione, poi vedremo tutto in corte d'assise, ma anche lì, ecco, dicevamo, ci confrontavamo così dicendo che è un processo ormai fatto, nel senso che siamo di fronte a un reo confesso, le modalità omicidiarie sono quelle. Si discuterà tutto sull'elemento soggettivo e sulla compatibilità o meno delle aggravanti con lo stato psichico dell'Alessandrini. Speriamo vivamente che oggi finalmente abbia luogo la discussione dell'udienza preliminare e che si arrivi al rinvio a giudizio di Alessandrini con le accuse di omicidio volontario pluriagravato. Questo è una questione di facile soluzione, mi avviso. Presenti in aula anche gli avvocati della parte civile, Biancofiore e Anselmo, mentre fuori la famiglia del povero Pierpaolo, mamma, papà, fratello e anche la zia, attendevano con fiducia. Siamo fiduciosi nella giustizia, grazie di tenere viva l'attenzione su questa cosa che è successa. Chi era Pierpaolo? Era un ragazzo magnifico, è un ragazzo che ci manca tantissimo ed era una persona stupenda. Mio figlio meritava una fine così. Fuori dal tribunale, gli amici di sempre, con foto e amore, perché la loro mente e il cuore sono rimasti fermi a quel terribile 20 febbraio 2023. Manca sempre, anche quando siamo in giro si sente una certa mancanza di una persona che si faceva sentire. E' ufficiale dunque il 3 luglio si aprirà il processo. Ancora la cronaca con la notizia circolata qualche nei giorni scorsi di una giovane romena in vacanza all'Ido Trearchi di Fermo, costretta a prostituirsi da un suo connazionale a salvarla. L'intervento della Polizia di Stato. Vediamo il servizio. Doveva essere una piacevole vacanza in Italia insieme ad un coetaneco nazionale, invece per una 25enne romena si è trasformata in un incubo. La ragazza infatti è stata segregata e costretta a prostituirsi all'Ido Trearchi di Fermo. A salvarla la Polizia di Stato dopo essere riuscita giovedì scorso a chiedere aiuto, telefonando ad una sua amica a Manchester, mandandole la sua geolocalizzazione. L'Interpol ha quindi inviato un alert urgentissimo con la squadra mobile di Fermo che è riuscita ad intervenire e liberare la vittima. Sola, senza soldi e senza sapere, una parola di italiana è stata obbligata a farsi scattare delle foto in atteggiamenti ammiccanti, pubblicate su un sito di incontri e infine a intrattenersi con un cliente. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento dove era rinchiusa, lei li ha abbracciati scoppiando in lacrime. Ora la ragazza si trova in una casa protetta per vittime di violenza. Lui incensurato è stato accompagnato in questura e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stato denunciato a piede libero. E le volanti della questura di Fermo hanno fermato in estremi su una donna che perseguitava l'ex convivente dal 2017. L'episodio è avvenuto a Porto Sant'Elpidio, vede protagonisti due polacchi di circa 50 anni con la donna che non accettava la fine della relazione con il suo compagno fino a minacciarlo. Accompagnata in questura per accertamenti è stata denunciata per i reati di porto di armi e oggetti atti ad offendere, atti persecutori aggravati e resistenza pubblico ufficiale. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata alla politica. La segretaria del Partito Democratico delle Marche, Chantal Bonprezzi, ha chiesto le dimissioni del capogruppo DEM in consiglio regionale, Maurizio Mangialardi, parlando di un cambio di passo e di guida e un gesto di responsabilità durante la direzione regionale del partito che si è tenuta ieri sera ad Ancona. Mangialardi fa parte della minoranza, uscita sconfitta dalle primarie aperte, che hanno eletto Bonprezzi alla guida del partito. Una situazione delicata che non è passata inosservata oggi in consiglio regionale con il gruppo degli otto DEM visibilmente spaccato al suo interno in cerca di una via di uscita meno dolorosa possibile, dicono i rumors. E restando in consiglio regionale oggi è stata la giornata dedicata a Carlo Urbani, il medico eroe di Castelplanio, morto nel 2003, di SARS. Non sapremo mai quante vite Carlo Urbani abbia salvato attraverso il suo sacrificio. Le parole del presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, in apertura di questa seduta straordinaria. Le voci di chi ha conosciuto Carlo Urbani e di chi continua a mettere in pratica i suoi insegnamenti, protagoniste della quarta giornata regionale dedicata all'infettivologo di Castelplanio, scomparso nel 2003, primo a isolare il virus della SARS di cui rimase vittima. Urbani, come ricorda la legge regionale che istituisce la ricorrenza, citata dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, è una figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell'accesso alle cure mediche, delle azioni di contrasto alla diffusione delle pandemie, della solidarietà internazionale in campo sanitario. Talmente importante che ancora il protocollo che aveva sviluppato lui, purtroppo su se stesso, per la SARS-CoV-1 nel 2003, è stata adottata per fronteggiare la SARS-CoV-2, quella che noi conosciamo come Covid, la pandemia che abbiamo conosciuto dal 2020 al 2022-2023, per dire la importanza fondamentale che ha rivestito la sua opera, il suo sacrificio e la sua tenacia soprattutto a portare la medicina veramente senza frontiere in ogni luogo del mondo, nei posti in cui veramente un farmaco per noi da banco vuol dire salvare delle vite. In collegamento video il virologo Matteo Bassetti, non ha dubbi nel definire Urbani il più famoso infettivologo italiano nel mondo. Urbani attivo in Vietnam un metodo anti-pandemie, proteggersi, proteggere e chiudere, che ancora oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce protocollo internazionale. In aula la proiezione di un estratto del documentario Carlo Urbani Ho fatto dei miei sogni la mia vita, di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi, prodotto nel 2003, in collaborazione con l'AICU, la Ollus, in suo nome, di cui il vicepresidente, il figlio Luca, ha ricordato in collegamento il principio di vivere la medicina non come professione, ma come missione. Le doti umane e professionali di Urbani, sottolineate anche dalle parole di Fulvio Borromei, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi o Donto Iatri della provincia di Ancona. Dobbiamo essere etici, dobbiamo rispettare il codice perché è promotore di salute, di benessere, di inclusione, di civiltà. E questo l'ho voluto sottolineare, ho voluto dire questo di Carlo perché è la parte più alta, la summa della sua vita. Che eredità ci lascia? Ah, un'eredità che dobbiamo assolutamente imitare, non dobbiamo essere scoraggiati dall'epoca in cui viviamo perché poi quei valori hanno la meglio nel tempo, perché basta far credere alle persone che lavorano perché poi queste stesse saranno testimoni di quello che fanno. Nelle conclusioni affidate al presidente della regione, Francesco Acquaroli, la gratitudine ad un figlio illustre della nostra terra. E al termine di questo toccante momento, di ricordo, il medico di Castelplanio è iniziata la seduta del Consiglio che ha portato al Via Libera, alla legge che promuove la figura di Federico II, poi il voto favorevole sulle norme di riorganizzazione della struttura amministrativa e infine sulla legge di valorizzazione delle ricette marchigiane. Di questo parliamo nel prossimo servizio. Via Libera, la normativa finalizzata alla promozione e alla valorizzazione delle ricette dei menù della cucina marchigiana. La legge, iniziativa della Giunta regionale, muove dalla considerazione che il settore gastronomico nella regione è comparto, molteplice e vivace, fortemente rappresentativo delle diversità del territorio di produzione. La filosofia di questa delibera è costituire un registro con tutte le ricette dei principali piatti della tradizione della cucina marchigiana. Saremo la prima regione in Italia a fare una cosa del genere, dopodiché ogni ristorante potrà utilizzare con un menù apposito questi piatti proprio per esaltare quella che è una identità della cucina marchigiana facendo forza sul traino dell'enogastronomia anche ai fini di attrazione turistica. Nell'articolato di legge si prevede l'istituzione del registro delle ricette della cucina marchigiana, l'istituzione del logo e delle giornate dedicate. Sono tantissimi ormai i turisti che viaggiano per le regioni d'Italia proprio per assaporare e conoscere le tradizioni locali. Allora, dei piatti strettamente legati al territorio per appunto fare della nostra regione, la regione del benessere, della qualità della vita, però anche del gusto, sempre seguendo appunto la filosofia del benessere e della valorizzazione dei nostri luoghi. Ad illustrare la legge in aula i consiglieri Marco Marinangeli, Lega per la maggioranza, e Micaela Vitri, PD per la minoranza. Vogliamo puntare su questa legge che è un po', fa parte di una filiera che già ha visto l'emanazione della legge sui borghi piuttosto che la legge sul benessere, sulla dieta mediterranea. Ecco, si chiude con questa legge un circuito che vorrà in qualche modo promozionare le marche e renderle famose e conosciute, apprezzate soprattutto e attrattive fuori dai confini della nostra regione. Torniamo con una notizia di cronaca. Il questore di Ancona ha emesso un dacur nei confronti di un uomo di origine rumena di 40 anni. Il provvedimento è scaturito a seguito di diversi episodi che lo hanno visto abusare di alcol. L'ultimo si è verificato in corso Garibaldi, quando l'uomo ha dato in escandescenze ed ha infastidito i passanti. Bonus gite scolastiche. Domani mattina alle 8 scatta il click day. Per richiedere il bonus, come funziona, ce lo spiega nel servizio Mario Larocca. Domani mattina alle ore 8 il click day per quanto riguarda il bonus gite scolastiche. C'era già stato ad inizio dell'anno quando l'Ise prevedeva un limite di 5.000 euro. Ora il limite è sicuramente maggiore. Si parla di 15.000 euro il limite Ise per accedere alla bonus gite scolastiche. Con un importo massimo di 150 euro la domanda si effettua sulla piattaforma unica del governo andando appunto nella voce servizi per poi arrivare a viaggi di istruzione. Domanda che va fatta immediatamente perché ad esaurimento delle scorte ovviamente del finanziamento appunto per queste gite scolastiche. Possono farla solo coloro che hanno i figli che frequentano le scuole superiori anche se hanno già fatto la gita. Quindi per le gite del 2024. Per chi ha più figli nelle scuole superiori sono previsti più bonus. Quindi l'appuntamento è per domani mattina alle ore 8 per il click day delle gite scolastiche. Consigli utili soprattutto per le famiglie. Mal tempo sulle marche anche domani. Temperature in calo e piogge per il sole bisognerà attendere ma è comunque primavera e c'è chi fa i conti con le allergie di stagione. Claudio Comirato ha chiesto qualche consiglio su come affrontare questa problematica ad un esperto. La stagione primaverile è praticamente alle porte e come ogni anno chi soffre di rinite allergica inizia ad avere i primi problemi ma che cosa si può fare dottore per poter in qualche maniera contrastare questo fastidio cavolte diventa anche tra virgolette invalidante, no? Abbastanza diciamo difficile da gestire anche nell'ambiente domestico. Certo, infatti la prima cosa da fare è capire bene quali sono i segnali dovuti specificamente alle allergie e sono classica rinite quindi abbiamo prurito sia sotto al palato buccale prurito negli occhi con lacrimazione rinite come dicevo prima che porta anche una rinorrea quindi un muco molto fluido insomma che può venire dal naso queste sono le prime avvisaglie nei casi un po' più complicati ci sono anche difficoltà respiratorie Cosa si può fare? Bene, rispondendo alla sua domanda rimedi antiallergici in primis praticamente sono quelli lì i classici farmaci da banco che contengono farmaci o sostanze che vanno a inibire la produzione di questo mediatore che si chiama istamina che produce tutti questi fastidi per cui colliri nel caso degli occhi spray nasali nel caso di rinite rinorrea insomma nei casi ovviamente più complicati lì c'è bisogno dell'intervento del medico che prescriverà altri farmaci che agiscono a livello polmonare insomma da ridurre i sintomi polmonari insomma in quel caso come muco muco persistente e tosse in questo caso Si può fare prevenzione magari prima che arrivino queste fioriture? Bene, ci sono i vaccini per tanti di queste fioriture come le graminacee ci sono dei vaccini che in maniera preventiva possono essere adoperati affinché nei casi più più importanti si possa prevenire i classici fastidi da allergia insomma almeno quattro coppie di aironi e cenerino si sono insediate appena a valle della presa del fiume Tronto sottostante il villaggio del fanciullo ad Ascoli Piceno ne dà notizie all'associazione di promozione sociale GIGER 88 aspicando che in futuro possa formarsi una vera e propria garzaia a due passi dalla pista ciclabile di cui i cittadini possono godere restiamo in tema animale con Lino Balestra che ci parla di Aperibau l'idea venuta ad una dog sitter fanese che nel suo giardino di casa sta creando un bar sui generis per i nostri amici a quattro zampe vediamo ormai l'happy hour è un bel momento consolidato delle nostre abitudini umane perché diciamo umane perché fino ad oggi era una prerogativa dei bipedi senzienti che si volevano sollazzare per un'oretta di spensieratezza unita anche a una parte godereccia legata al palato e al gusto ma perché solo per noi e non anche per i quadrupedi con cui condividiamo gioie e dolori della vita quotidiana detto fatto ad una ragazza di Fano Chiara Principi amante degli animali gli si è accesa la lampadina e in men che non si dica ha messo in piedi una cosa con tanto di influencer in rete un Jack Russell con occhiali rossi modaioli che sta spopolando ed è diventata veramente una star che fa da testimonial a questa simpatica e buffa iniziativa però miglior amico dell'uomo che sta proprio per nascere una cosa divertente una cosa buffa la passione per gli animali ho sempre avuto animali sono cresciuta con gli animali quindi li amo li amo particolarmente e ho avuto insomma questa idea così quasi per gioco e poi insomma insieme ad alcuni amici abbiamo che mi hanno aiutata tanto abbiamo messo su questo progetto esigenze di qualsiasi genere quindi un'ora due ore tre ore c'è chi mi ha chiesto anche di tenerlo la notte per esempio quindi è proprio un nuovo modo di reinterpretare il lavoro appunto di dog sitter un bel frullato calibrato per loro stuzzichini ad hoc spazio relax e intrattenimento gli elementi ci sono tutti per un aperibau in piena regola anche per la gioia dei padroni che magari staccano un po' la spina e vanno in posti dove gli amici a quattro zampe non possono entrare e poi c'è un altro elemento base dell'happy hour la socializzazione i cani saranno in sicurezza all'interno dei box ampi ma liberi cioè aperti i cani tra di loro devono poter interagire guardarsi eccetera il cane verrà seguito personalmente da me dai ragazzi che mi hanno aiutato a mettere su questo progetto da queste amicizie che ho e da alcuni volontari ci saranno poi organizzate delle passeggiate e altre cose oltre insomma l'aperitivo in sé e adesso vi segnaliamo un'importante iniziativa perché domani ad Ascoli Piceno è in programma il terzo campionato studenti istituti agrari d'Italia per la potatura dell'olivo evento che ha assunto ancora maggior valenza per la presenza del ministro Lollobrigida Mario Larocca ha incontrato la preside dell'istituto agrario Celso Ulpiani di Ascoli Rosanna Moretti è nato come un gioco perché comunque era una gara è una gara sarà una gara per ragazzi è diventato invece a livello mediatico un evento straordinario perché molto probabilmente preside ci sarà il ministro Lollobrigida sì in effetti nasce come evento nazionale in quanto lo scorso anno al sesto campionato regionale di potatura dell'olivo a vaso policonico un nostro ragazzo Jacopo Guglielmi vinse il regionale e poi il nazionale ad ogni livello sia quello riservato per le scuole e sia quello aperto a tutti gli olivicoltori e quest'anno quindi la scuola Istituto Ulpiani ha dovuto organizzare ed è ciò che stiamo facendo nasce quindi come un evento nazionale il terzo perché la gara è nazionale da parte di tutti gli studenti degli istituti agrari d'Italia che si occupano di olivicoltura quindi avremo una delegazione di circa 20 scuole provenienti dalle regioni del centro-sud zona mediterranea naturalmente poi però l'abbiamo anche ampliato l'evento perché ad Ascoli ci sono molte cose importanti ed interessanti e con il comune di Ascoli Piceno abbiamo aperto una collaborazione molto forte ma anche con gli imprenditori del territorio le associazioni gli ordini e le associazioni di categoria per cui l'evento si è ampliato e avremo la presenza confermata dell'onorevole ministro Lolo Brigida è dirigente tra i due istituti all'agraria prettamente legata alla gara e poi c'è l'alberghiero dove tutti andranno sostanzialmente a festeggiare e a mangiare Sì questo istituto annovera in sé non solo l'istituto tecnico e professionale agrario che ha quest'anno ormai 142 anni ma abbiamo anche l'alberghiero che con il comune l'anno scorso proponemmo su una ricetta particolare tradizionale del raviolo incasciato la possibilità che Ascoli deliberasse la denominazione comunale per quanto riguarda invece quest'anno abbiamo richiesto e proposto una seconda deco sul picone per cui ci sarà anche la delegazione della commissione all'interno del consiglio comunale di Ascoli Piceno che sarà presente all'evento è arrivato adesso il momento di occuparci di sport con notizie e servizi apriamo con il calcio Antonio Cioffi dell'Ancona è stato squalificato per tre giornate dal giudice sportivo si è reso protagonista sabato nel derby di Recanati di una manata rifilata ad un avversario sotto gli occhi del direttore di gara inevitabile quindi che ci fosse una sanzione pesante nei suoi confronti stop per un turno anche ad un altro giocatore dorico Gianluca Clemente 1200 euro di ammenda inoltre per intemperanze dei propri tifosi e per i danneggiamenti nel settore ospiti dello stadio Tubaldi per la gara di sabato con la spalle biglietti a prezzi stracciati 5 euro per entrare al Del Conero in tutti i settori passiamo al podismo con la mezza maratona del Metauro che si è disputata domenica scorsa a Fossombrone Mario Giannini 380 sono stati gli agonisti che hanno affrontato la mezza maratona del Metauro a questo numero vanno aggiunti altri 200 camminatori che hanno percorso gli 11 o i 6 chilometri una bella manifestazione che partita dagli impianti sportivi di Fossombrone ha portato i budisti della mezza fino a Calmazzo dove era situata la bolle per il ritorno con passaggio poi presso le marmitte dei Cicanti con l'arrivo agli impianti sportivi in prossimità del bocciodrono una manifestazione realizzata dal running club Fossombrone del presidente Giuseppe Murelli con il general manager Maurizio Lini che ha curato l'organizzazione e con il patrocino dell'amministrazione comunale subito dopo il via il gruppo dei migliori composto da otto unità prendeva il largo mentre per il settore femminile la numero uno della grottini Silvia Luna lasciava a debita distanza tutte le sue avversarie al giro di buona restavano in sei al comando gruppo composto da due gemelli Ercoli Fabio e Marco De Marocchini e Dam e il Aiasur da Poggi e Rashid Benandam che dopo la boa saliva sull'auto di servizio e terminava così la sua gara al sedicesimo chilometro perdeva il contatto Poggi ed in quattro restavano in testa al diciottesimo Fabio Ercoli allungava decisamente con i due atleti del Marocco e del gemello Marco che si distanziavano e giungevano nell'ordine al traguardo il tempo di Fabio Ercoli era un'ora 10.41 per il settore femminile arrivo senza problemi di Silvia Luna in un'ora 22.35 nulla poteva la pesarese Laura Giordano che giungeva dopo quattro primi e 29 secondi e la romagnola Luana Leardini che concludeva con un ritardo di oltre 5 minuti sul podio bei premi per le varie categorie con la presenza del sindaco Massimo Berloni del presidente della provincia di Pesaro Giuseppe Paolini dell'assessore allo sport di Fossombrone Cristian Amadori e per l'Avis la vicepresidente Daniela Ragnetti come di consueto vi ricordo l'appuntamento su queste emittenti di mercoledì alle ore 22 e 10 per un ampio servizio sulla manifestazione La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che il giocatore Leonardo Totè nel corso del match contro la Una Hotels a Reggio Emilia ha riportato un trauma distorsivo contusivo al gomito destro dopo gli accertamenti diagnostici e le valutazioni cliniche che hanno evidenziato la lacerazione della capsula articolare e una lesione del legamento ulnare lo staff medico ha stabilito in quattro settimane i tempi di recupero la società si riserva di valutare eventuali interventi sul mercato Ancora calcio la finale di Coppa Italia di promozione tra moglie e vallesina e potenza picena si giocherà domani sera alle 20 e 30 allo stadio Carotti di Iesi la decisione presa in estremi si ha provocato chiaramente qualche malumore soprattutto tra la tifoseria potentina Per noi era questa l'ultima notizia io vi lascio le previsioni del tempo per domani vi ringrazio per l'attenzione Oliusa torna con la prima edizione domani alle 12 e 50 prima però ci sono i programmi della rete quindi se volete state con noi e poi in seconda serata la nostra rassegna online fatti e commenti dalle 23 grazie a tutti per l'attenzione Asset Farmacie Comunali Ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di mercoledì quando un fronte interesserà tutta Italia determinando condizioni di maltempo su tutto il centro nord piogge e rovesci dal pomeriggio fenomeni anche al sud possiamo notare di fatti ad ovest questa ampia circolazione di bassa pressione che anche nel weekend di Pasqua lambirà a parte della nostra penisola principalmente le regioni settentrionali nel dettaglio ecco il fronte con piogge e rovesci anche intensi al centro nord durante il pomeriggio fenomeni che si estenderanno al sud rovesci anche a sfondo temporalesco tra Lazio e Campania l'immagine ci conferma la giornata di mercoledì di maltempo con neve sulle Alpi fino a 6.000 metri di quota nevicate pomeridiane anche sull'appenino centro-settentrionale oltre i 1.300 metri maggiori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo